E cambiamo argomento, le città dove si vive meglio, se sia bambini, giovani o anziani, la classifica in base alle fasce d'età è stata astilata dal Sole 24 Ore. Scopriamola con Gabriele Flamma. Lo stesso luogo può essere attraente per chi è avanti con gli anni, ma non adatto ai più giovani o viceversa. Partendo da questo assunto, il Sole 24 Ore traccia la classifica delle 107 province italiane. Cagliari è il territorio più a misura di bambino, Ravenna quello più accogliente se si è giovani, Trento la provincia più attenta al benessere degli anziani. Queste le tre città in vetta alla classifica della qualità della vita, per la prima volta suddivisa in categorie generazionali. Il Quotidiano ha selezionato parametri che vanno dalla disponibilità di scuole fino all'importo delle pensioni. Cagliari primeggia per i bimbi grazie al numero di pediatri al costo degli asili nido, ma scivola al 71esimo posto per la qualità di vita dei giovani. Ravenna e Trento sembrano unire più generazioni, rispettivamente in cima alle categorie giovani e anziani entrano nella top 10 anche delle altre fasce di età. In generale si conferma il divario a svantaggio delle regioni del sud rispetto al nord e non vanno bene le aree metropolitane, con l'eccezione della provincia di Bologna nel 2020 prima per qualità della vita. Milano e Roma si piazzano tra le prime dieci solo per gli anziani, trainate dall'importo medio delle pensioni, ma le Napoli soprattutto a causa dell'altra disoccupazione giovanile. Gli europei di calcio, il belgio manda a casa il portogallo.